Oggi voglio darvi un annuncio importante Finalmente è arrivata la collaborazione con un'azienda leader nel settore dell'integrazione, nutrizione e anche abbigliamento sportivo Prozis Quindi anch'io avrò il mio codice sconto personalizzato Il Profeta Quindi quando fate un acquisto su Prozis mettete il mio codice sconto Il Profeta Se mi volete supportare, mi dovete supportare Voi riceverete il 10% di sconto su ogni articolo più vari omaggi E in più vi dico una cosa, che per chi fa ordini superiori ai 60€ Mi mandano screen su Instagram, sul mio profilo Il Profeta della Verità E riceverà in omaggio il programma Progressioni Profetiche Super e Limite Che ti consente dei progrediti su ogni esercizio che te vale un anno Quindi che cazzo volete di più? Ora vi faccio vedere alcuni integratori e anche prodotti sfiziosi di questo unboxing E soprattutto quello che utilizza Il Profeta in fase remassa Allora partiamo subito con la creatina 150 grammi di creatina mi sono ordinato Questa è ottimale sia in fase remassa che in fase remassa Perché molti mi dicono, eh profe, la creatina ti scoppia il fegato e doping La creatina, brutti stolti, è uno degli integratori più studiati sul mercato Quindi ti consente anche di aumentare la tua massa muscolare Perché prendi più forza, diciamo, nelle brevi ripetizioni Quindi riempi le tue scorte di glicogeno E ti dà ritenzione intramuscolare Questa è ottimale, in fase di definizione de massa non deve mai mancare Poi ragazzi, questa volta ho preso il Mass Gainer Che è una cosa che io sottovalutavo in fase di massa Ma vi dico anche i valori Cioè abbiamo 386 calorie su 100 grammi 69 carboidrati, 11 zuccheri, 21 proteine Ottimo, questo prendo 3-4 misurini E vi dico una cosa Che non è che lo dovete sostituire a un pasto Ovviamente mangiate e fate i vostri pasti Questo serve per apportare, cioè per dare un surplus calorico Magari persone che fanno fatica a mettere massa muscolare perché mangiano poco Io ad esempio arrivo a 4500 calorie Non le mangio tutte alimentari Io di solito le sporcavo Ma se le voglio mangiare pulite Magari prendere il Mass Gainer E riesco, diciamo, ad arrivare a quella quota calorica Quindi abbiamo sia proteine che carboidrati Anche un po' di creatina Poi ragazzi, vabbè, le classiche whey, proteine in polvere Queste le andremo a provare Gusto cioccolato, ovviamente Il cioccolato mi manna al manicomio Poi, cose che non ho mai provato Burro da rachidi Questo qui, vi dirò, vi darò il feedback Se vedete le mie storie Instagram è il profeta della verità Poi abbiamo questo qua Choco butter L'abbiamo preso, sì Al gusto nocciole Poi L'ashwaganda ragazzi L'ashwaganda che è un'erba Deriva da una pianta Ed è un integratore che permette di farti conciliare il sonno Quindi io, alla fine Dormo poco E poco di qualità Soprattutto il mio sonno è poco qualitativo Perché come sapete bene Mi fa scelte notti Non l'ho mai provato Però voglio fare un test Magari, che ne so Su due settimane Ci diamo due settimane di tempo E ve lo pubblicherò Come video YouTube Oppure come storia Instagram Poi che mi sono preso Ovviamente multivitaminico 90 capsule Quindi questo ci è durato in un mese Barrette proteiche Queste qui all'avena Le ho già provate E queste sono fenomenali Perché hanno sia Avena Che proteine Quindi carboidrati e proteine C'ha ottimi valori Questo è pure buono Questo invece non l'ho provato Queste altre Ah no, questo qua Sono alla merengame Queste non le ho provate Ho deciso di prendere anche il pre-workout Proviamo un po' questo pre-workout process E ovviamente vi darò anche i feedback Cose che non ho mai assaggiato Sono queste Le creme Creme proteiche Burro da rachidi E ho voluto prendere Siccome bevo poco Ahimè Mi sono preso questo qui H2O Che alla fine Sarebbe come bolero Soltanto che ha vitamina C Ovviamente mi sono preso anche i pancake Al gusto Ferrero Rocher Bonbon Allora io i pancake Li ho già assaggiati Meringa al limone E cappuccino Veramente fenomenali A parte questi Metti in avatella Cioè veramente Se fanno senza lievito Perché sono già pronti Vengono bene Manco se incollano E hanno un sapore Che è veramente favoloso Infatti sono curioso di provarlo Con le creme proteiche Quindi ragazzi Quando farete l'acquisto Su Prozis Ricordatevi Il codice sconto Il Profeta E per ordini superiori Di 60€ Come avevo detto Riceverete in omaggio Anche il programma Progressioni del Profeta Detto ciò ragazzi Supportate il Profeta Ringrazio ancora Prozis Per aver creduto Nelle potenzialità Del canale del Profeta E se volete supportare Il mio canale Acquistate con il mio codice sconto E noi ci vediamo Ai prossimi video Vi saluto